Durante la sua permanenza a Los Angeles Fedez ha avuto un incontro abbastanza inaspettato e inusuale Infatti nonostante lui e Chiara Ferragni siano molto family friendly si è incontrato con la nota porno star Mia Khalifa Compagna ad avventure di moltissimi italiani e famosa per i suoi video porno tipo col burka e robe del genere Che era già un po' di tempo che si scambiava riscontri di social con Fedez Quindi storie dove magari ascoltava le sue canzoni, lui che la ripostava, like alle foto E oggi si sono incontrati, che direi sinceramente quando ho visto Fedez e Mia Khalifa ci sono rimasto un attimo così Ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo incontro, quindi scrivetemi un commento qui sotto al video Vi lascio alle storie, se noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Si fa la barba papà? Ma che modello, wow Ma che capizolini Wow Bravo Mia moglie non cucina mai, è dovuta arrivare Mia con Robert a cucinarci i pancakes vedesi, ragazzi Sono una hit totale Buonissimo eh Che buono Ultimo, ultimo Vuole altri pancakes Guardalo Guardalo Buono Che buono Grazie a tutti 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 Grazie.